Stefania Orlando, presente ieri 6 marzo 2021, ha benissimo il programma condotto da Silvia Toffanin. E' una Stefania Orlando che si apre a 360 gradi, quella vista ieri, dove parla di una cara amica che purtroppo non ce l'ha fatta, purtroppo si è spenta, era la sua migliore amica. Ha parlato poi di Andrea Roncato, del suo problema di matrimonio che aveva con lui, e anche per quanto riguarda il suo futuro con il buono Simone Gialloranzi, attuale marito che ha vicino. Insomma, è stata una Stefania Orlando che si è aperta completamente, raccontando parte della sua vita e a tempo stesso, aprendo il suo cuore, facendo sapere a tutti che purtroppo un tumore ha portato via la vita alla sua migliore amica. Ecco, io ovviamente non voglio divulgarvi altro, perché non voglio leggere la sua privacy e il suo copyright, però sul web troverete l'intervista completa a Stefania Orlando, che c'è stato a verissimo, 6 marzo 2021. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari clienti di YouTube, iscrivetevi al canale, questo video non vuole leggere la sua privacy, né leggere il suo copyright, ma solo informare eventuali persone. Grazie a voi tutti, da Leandro, narratore italiano. Ciao, cara Stefania, un bacio grande e al prossimo video.